Eccoci ragazzi, salve, oggi parliamo di Marziale e facciamo una brevissima ricognizione sull'autore attraverso i suoi quattro famosi testi. Marziale è un autore spagnolo, arriva a Roma sotto Nerone, conosce, arriva una certa notorietà sotto i Flavi, in particolare nell'80, quando un anno dopo la morte di Vespasiano, il figlio, l'imperatore Tito, inaugura l'anfiteatro Flavio, cioè il Colosseo, e gli pubblica in onore di questi giochi, che durarono cento giornate immaginate, il Liber de Spectaculis. Poi aveva pubblica praticamente migliaia di epigrammi che vengono da lui via via pubblicati e che raggiungono alla fine nella opera omnea di Marziale quindici libri di epigrammi e insomma intorno, anzi, su più di 1500 componimenti. Cos'è un epigramma? È un breve testo, indistici e legiaci, quasi sempre, l'avete già conosciuto quando facevate Catullo, la seconda parte del Liber di Catullo, infatti è proprio caratterizzato dagli epigrammi. È una poesia d'occasione, una poesia che parla della realtà e spesso di occasioni specifiche. Due raccolte, infatti, due libri particolari di questi quindici di Marziale, rispettivamente il tredicesimo e il quattordicesimo, si intitolano per esempio Xenia e Apoforeta, cioè due raccolte di piccoli componimenti che potevano accompagnare, come proprio bigliettini augurali, i doni dei saturnali o i doni che si facevano agli ospiti alla fine di una festa di un banchetto. Insomma, testi molto legati al hic et nunc, all'occasione, oppure testi che descrivono esperienze quotidiane, la vita di tutti i giorni, l'incontro o la caricatura di certi personaggi con un gusto spesso veramente realistico, perfino sboccacciato, diciamo, perfino molto esplicito e che rappresentano tipi umani, la società del tempo, la vita quotidiana. Infatti, Marziale nel primo componimento di apertura, dice al suo lettore che non troverà gorgoni, non troverà caronte o episodi mitici nei suoi libri, ma una pagina che sa di uomo, hominem pagina nostra sapit, cioè la vita vera, l'uomo vero, così come si incontra per le strade di Roma. La vita di Marziale a Roma è quella di un cliente, egli insomma per sbarcare il lunario, per sopravvivere in città, deve fare il cliente, cercare di ringraziarsi potenti, offrire i suoi servigi in cambio di misere e ricompense. Questo tormento, questa vita così faticosa e misera, nella fine della sua vita, negli ultimi dieci anni circa, grazie anche alla sistemazione con una ricca vedova, si risolverà in un ritorno alla sua Bilbili in Spagna, di cui egli loda la tranquillità e la possibilità di una vita finalmente serena, rilassata, in cui si dorme finché si vuole, in cui si incontra gente semplice e non c'è bisogno neanche di indossare la toga. Ma veniamo ai nostri testi. Muore intorno al 104. Ho letto il dissico elegiaco senza ulteriori introduzioni. Abbiamo qui la rappresentazione di una certa Elia, che come vedete dal titolo della nostra edizione Dulce Ridentem della Person, edizioni Person, è una donna sdentata. Ecco che qui abbiamo proprio un esempio di quello che è l'epigramma, cioè di un testo che vuole divertire, che è anche grottesco, saccente e che è caratterizzato dalla descrizione apparentemente neutra nei primi versi di una persona, di una situazione, che poi si rivela irresistibilmente comica con la battuta finale, il fullman in clausola. Andiamo a vedere dunque la traduzione. Vi ricordo, avete qui lo schema nel riquadrino del nostro testo di adozione, lo schema dell'esametro e del pentametro che costituiscono il distico, il distico elegiaco, cioè la coppia di versi che si ripete per tutto il componimento. Il primo verso è sempre un esametro, vedete? Simemi nifue rant, abbiamo la pausa dopo il terzo accento, la pausa mediana, e abbiamo visto i dattili che si susseguono. Simemi nifue, il secondo dattilo. Al terzo accento, spezzando il terzo dattilo, abbiamo la pausa appunto, dicevamo mediana, e poi di nuovo le due brevi che completano il terzo dattilo, quattuar, ancora un dattilo, elia, quinto dattilo, che fa posizione, cioè che è sempre un dattilo, mentre negli altri metri, negli altri piedi possiamo anche avere uno spondeo, cioè una sequenza di due sillabe lunghe che sostituisce il dattilo. Dicevamo elia, quinto dattilo, dentes, invece, come vedete, è l'ultimo piede, il sesto, che invece è sempre di due sillabe, perché l'esametro è sempre catalettico, cioè perde l'ultima sillaba del terzo piede, e quindi può avere poi alla finale indifferentemente una lunga, una breve, si dice sillaba indifferenz o anceps. Invece il secondo verso è un pentametro, expulit una duos, vedete, due dattili, arriviamo al terzo accento della sillaba lunga e la pausa, e poi si ripete esattamente lo stesso schema, quindi il pentametro è come se ripetesse due volte il primo emiepe, cioè la prima metàverso di un dattilo con cesura mediana, e infatti attacca, vedete, due accenti sulla pausa, quindi expulit una duos, e poi riattacca, riparte con l'accento tussit una duos. Traduzione adesso. Se mi ricordo bene, ti erano rimasti elia quattro denti, oppure avevi elia quattro denti, fu erantativi, infatti sarebbe una costruzione di dativo di possesso, dativo col verbo essere, a te erano stati quattro denti, però più liberamente, elegantemente, traduciamo, ti erano rimasti quattro denti, o elia, una tussis, soggetto, una tosse, ma noi traduciamo un colpo di tosse, expulit duos, te ne ha fatti sputare due, et una, et un altro colpo di tosse, altri due. Scusate ma sbaglio a smuovere le foto e vedete la foto di un Samuele, mio figlio adolescente di qualche anno fa, quindi. Ora puoi tossire, potes tossire, puoi tossire, sicura, tranquilla, elia, totis diebus, per tutto il giorno, tutti i giorni, si tratta di un ablativo di tempo. Il nostro testo in nota dice potrebbe essere un tempo continuato per tutte le giornate, ma noi più semplicemente facciamo un complemento di tempo in ablativo, tutti i giorni, e quindi puoi tossire tranquilla tutti i giorni ormai. Infatti, terzi atussis, un terzo colpo di tosse, non ha più nulla da fare a questo punto, nil abet, quod agat, quindi nil abet è la principale, quod agat è la relativa con il congiuntivo della possibilità, non ha proprio niente da fare, che possa fare, con una sfumatura quindi di concessiva. Vedete il fulmen in clausola? Elia aveva quattro denti, ne ha sputati due con un colpo, due con un altro, un altro colpo di tosse, ormai può tossire tranquilla, perché il terzo colpo non ha più nulla da farle sputare. Ecco il fulmen in clausola. Vediamone un altro un po' più serio. Marziale, che ama molto, attribuisce un valore molto alto all'amicizia, come vedete nell'introduzione del nostro testo, dice a un uomo ricco, brutto, che i veri amici sono quelli che aveva una volta, quando era giovane e povero, quelli che adesso, che è vecchio e ricco, non possono essere amici disinteressati, amici suoi, sono solo amici della sua eredità, cioè sono dei cacciatori di eredità. I cacciatori di eredità, ricorderete, li abbiamo trovati anche in Petronio, sono personaggi molto presenti nelle satire di costume dell'epoca imperiale, sono appunto quelli che puntano a farsi lasciare una qualche eredità da qualche vecchio ricco, blandendolo, circuendolo, facendosi amici e quindi sfruttando il bisogno di compagnia e la vanità di questi uomini da bene. Di nuovo il distico e legico che abbiamo già descritto. Orbus est, orbus est, et locuples, et brutto consule natus, estibiveras credis amici tizias, sunt vere sed quas juvenis, quas paupera bevas, qui novus est mortem, diligit ille tuam. Come vedete nel secondo distico, Marziale varia il ritmo inserendo la doppia pausa, quella dopo il secondo accento e dopo il quarto accento, quindi la semi-ternaria, la semi-settenaria. Sei orbus, qui non vuol dire orbo, sei privo di parenti, quindi vedovo e senza figli sarebbe, quindi sei privo di parenti, è ricco e nato quando era console brutto. Vedete il polisindeto et, et, no? I tre elementi che ne rendono una preda appetibile. È vecchio, è ricco ed è senza parenti. Credis estibiveras amici tizias, credi che a te siano, vedete il solito costrutto del dativo di possesso col verbo essere e il dativo a te siano, quindi che tu abbia ed è un'oggettiva, vedete, con veras amicizias, che è il soggetto in accusativo, e l'infinito s. Credi di avere vere amicizie? Sono vere? Piuttosto, quas, juvenis, quas, pauper, abebas, vedete qui di nuovo, invece c'è l'anafora del pronome relativo, quas, sono vere, sono vere, ma letteralmente quelle che avevi da giovane, juvenis, quindi fa da predicativo del soggetto, il soggetto è sottinteso tu, quelli che avevi da giovane, quelle che avevi da povero, quando eri povero. Qui novus est, colui che è un nuovo, sottinteso, amico, diligit, ama, egli ama, vedete qui è quasi ridondante, il ribadisce la vera identità del nuovo amico, quello ama la tua morte, quindi è amico della tua morte, possiamo anche tradurre. E ne vediamo un altro, sempre caratterizzato dal fulmene in clausola, cioè dalla battuta che si concentra nel verso finale che capovolge e dà un significato nuovo, oppure dà la stoccata finale, il colpo di grazia diremmo noi, alla destinatario del componimento e anche qui abbiamo invece un'ironia feroce verso un'altra donna, questa non è sdentata, questa ha parrucche e viene, si chiama Fabulla e mette in pratica alla lettera uno dei consigli che troviamo nell'Ars amatoria di Ovidio. Nel libro dedicato alle donne Ovidio raccomanda, come cura di bellezza istantanea, di uscire e farsi vedere in società e per strada soltanto con amiche più vecchie di te e più brutte di te, in modo che tu o donna che ascolti i miei consigli, dice Orazio, appaia immediatamente la più carina del gruppo, quindi sicuramente la più giovane di quello che sei e più bella di quello che sei, perché dal confronto ne guadagni. Allo stesso modo si comporta Fabulla. Scusate, mi ero scusata di dirvi che questo è l'endecasillabi faleci, vi ho segnato la metrica qua sopra, come ricorderete l'endecasillabo falecio, anche questo un metro usato da Catullo, è costituito da un piede che è una base ionica, da un coriambo che vi ho segnalato, quindi questa sorta di panino, una lunga, due brevi e un'altra lunga, chiudere, e poi da un'altra sequenza che può essere definita come una tripodia giambica catalettica, quindi un giambo, un altro giambo e una sillaba che rimane diciamo anceps perché è caduto l'ultima lunga del terzo piede giambico. Dicevamo omnes aut vetulas abessa micas, autur pes vetulisque fedi ores, as du cis comites traisque tecum per convivi a porticus teatra sic formò safabulla sic puellas, puelles scusate perché c'è la aferesi, no se c'è la aferesi scusate ho sbagliato qua, non si legge puellesa si legge puellas cioè cade cade la e e non la a, ho sbagliato perché verbo essere. Ok allora dicevamo puellas quindi sic puellas abes tu hai omnes amicas tutte le amiche aut vetulas aut turpes o vecchie o brutte e vedete il terzo elemento sempre increscendo in climax il terzo elemento ironico fediores vetulis o più più sgradevoli delle vecchie brutte e più sgradevoli delle vecchie vetulis quindi ablativo secondo termine di paragone perché fediores vedete il suffisso ior è un comparativo di maggioranza. As du cis comites dicevamo allora queste du cis teleporti comites come amiche quindi comparativo del complemento oggetto as come amiche trais tecum e te le trascini con te per convivia per i per i conviti i portici i teatri solo così fa bulla sei bella solo così sei puella una ragazzina molto carino no anche questo è molto feroce. Veniamo invece a un testo molto più dolce l'epigramma 34 del libro quinto in realtà è un epicedio cioè è una poesia funebre ed è quindi scritta per la morte di una bambina di una schiava erotion. Di stice legia ci torniamo alla lettura metrica Anc ti bifronto paterra genetrix flaccilla puellam oscula commendo delici asque meas parvola nenigras orres caterotion umbras ora que tartarei prodigiosa canis impletura fuit sextemo do frigora brume vixis set totidem niminusilla dies inter tam veteres laudat lasciva patronos et nomembleso garriattore meum molla non rigidus cespeste gatossa nechilli terra gravis fueris non fuit illa tibi fronto pater genetrix flaccilla padre frontone madre flaccilla a te quindi qui c'è una concordanza senso concorda solo con pater ma in realtà si rivolge singolarmente a entrambi i genitori possiamo anche tradurre a voi oppure a te padre frontone a te madre flaccilla commendo il verbo è commendo al secondo verso affido anche a puellam questa bambina oscula delici as meas questi sono due apposizioni del termine puellam sarebbe i baci e le mie gioie quindi l'amore mio e i miei baci non fraintendiamo eh osculum non è un bacio oppure una metonimia per indicare un amore erotico eh è proprio un amore tenerissimo quindi la mia tenerezza e la mia gioia ne orrescat la finale affinché parvo l'erozio erotion è il soggetto la piccola erotion ecco che qui abbiamo il nome di questa bambina la piccola erotion non orrescat non abbia paura orreo indica anche il tremare il rabbrividire è un verbo quasi intraduscibile quindi facciamo facciamola facile non abbia paura delle nere ombre e ora prodigiosa vedete che orresco il latino legge semplicemente il oggetto è non abbia paura delle nere ombre e delle fauci terribili canistartare del cane del tartaro ricorderete cerbero per questo ora le fauci le gole perché ha tre teste quindi tre bocche fuitimpletura questa è una forma che avete incontrato raramente sarebbe una una perifrastica che però avendo appunto il verbo fuit quindi avendo l'ausiliare al passato si usa sempre nei periodi ipotetici di terzo tipo in realtà avrebbe dovuto mettere fuisset cioè avrebbe dovuto usare il congiuntivo di terzo tipo ma forse lo fa per rimanere in uno stile più basso vicino al parlato di preferire l'indicativo oppure perché sta indicando effettivamente una e un dato oggettivo cioè l'età della bambina e quindi andiamo a tradurre modo impletura fuit appena avrebbe compiuto frigora l'inverno sarebbe il freddo letteralmente del sesto inverno quindi possiamo tradurre più ribelavente avrebbe stava quasi per superare il sesto inverno ni ecco questo ni che trovate al verso 6 lo mettiamo all'inizio davanti a vixistat perché sarebbe nisi e introduce dunque la seconda parte del periodo ipotetico la subordinata la protasi della terzo tipo abbiamo detto dell'impossibilità e qui infatti vediamo il congiuntivo più che perfetto vixistat se non avesse vissuto illa il soggetto se lei non avesse vissuto minus meno totidem dies di altrettanti giorni meno dunque di sei giorni cioè mancavano sei giorni che lei compisse il suo sesto probabilmente compleanno il suo sesto inverno se avesse se non avesse purtroppo terminato la sua esistenza prima che fossero passati sei giorni inter tam veteres e allora inter tam veteres patronos e tra protettori patroni così anziani lei lasciva lei gioiosa ludat giochi e garriat bleso ore e garriat vuol dire strilli ma di gioia quasi anzi potremmo dire cinguetti ecco e cinguetti con la sua pronuncia con la sua bocca blesa letteralmente con la sua pronuncia blesa il mio nome non so se vi siete resi conto della tenerezza di questo testo poi ci torniamo comunque bleso sapete che significa sono coloro che pronunciano la f la f così mettendo la lingua tra i denti quindi capite marziale marziale è una caratteristica proprio che identifica questa bimba che pronunciava storpiando teneramente il nome di marziale non un rigido cespe di solito la poesia funebre è all'inizio un commiato e alla fine c'è sempre questa invocazione alla terra che non sia dura e pesante sopra il corpo delle piccole creature cui questi testi di solito sono dedicati quindi c'è il congiuntivo quindi desiderativo tegat il soggetto è rigidus cespes quindi non una zolla rigida copra le tenere ossa né o terra e non essere o terra gravis pesante su su di lei infatti lei non lo fu a te non lo fu per te questo nec fu eris è un fu eris lo vedete è un congiuntivo perfetto il comando al negativo il latino specie in queste formule appunto diciamo così quasi ufficiali no sacre rispetto alla regola per cui invece dell'imperativo negato si faccia con specialmente se il comando alla seconda persona né e il congiuntivo perfetto quindi è una sorta è un imperativo negativo un comando al negativo solo due parole per concludere abbiamo visto nel primo distico la il fatto che marziale affida questa bimba che è probabilmente una schiava che gli è nata in casa marziale non aveva figli ai suoi genitori e questo elemento ritorna al verso 7 lei possa giocare tranquilla e allegra in mezzo ai suoi vecchi protettori si configura un rapporto dunque non tra schiavo e padrone ma un rapporto familiare un rapporto di tenerezza come se dunque i genitori di marziale fossero i nonni e non i padroni della piccola erotion a cui si può affidare quindi questa bambina perché possa giocare possa essere protetta dalle tenebre dal cane cerbero dalla paura e possa sentirsi al sicuro è come se marziale che ha amato questa creaturina di neanche sei anni come se fosse sua figlia e che la chiama la mia dolcezza la mia gioia la mia tenerezza i miei baci possa ecco affidarla all'amore ugualmente familiare di questi nonni adottivi e vedete che appunto l'altro elemento di tenerezza ve lo citavo prima non solo egli spera che la piccola erotion non abbia paura del tartaro ma possa trovare questi nonni adottivi e giocare felice ma possa continuare a ricordarsi di marziale pronunciandolo come lo pronunciava lei con questo garrito di rondine questo cinguettio estorpiandolo con una pronuncia blesa ecco è veramente una piccola ma molto concreta rappresentazione di quel rapporto di famiglia di quel rapporto di di affetto quasi parità nell'affetto non certo nella condizione sociale ma nell'affetto e nel rapporto umano che si augurava Seneca nell'epistola 47